16esimo episodio della serie su C-Sharp. In questo video vediamo un costrutto fondamentale della programmazione, lo switch statement, detto anche switch case. Lo switch ci permette di distinguere più casi corrispondenti ad altrettanti valori di un'espressione e risulta utile quando si devono controllare tanti valori per una singola variabile e quando viene trovato un match viene eseguito il blocco di codice corrispondente. Prima di vedere un esempio cerchiamo di capire come la sintassi. Quindi abbiamo la keyword switch, abbiamo le solite parentesi tonda al cui interno inseriamo l'espressione e poi abbiamo il blocco di codice definito dall'apertura e la chiusura di due parentesi graffe. Successivamente per ogni valore che può assumere l'espressione abbiamo un case, quindi scriviamo case, ad esempio x, due punti e scriviamo il blocco di codice e successivamente abbiamo un break che è una keyword che ci permette di uscire da un blocco di codice, ma la vedremo più avanti. Poi potremmo avere un altro caso, quindi case y, che ovviamente avrebbe un suo blocco di codice, probabilmente diverso dal blocco di codice del case x, è di nuovo la keyword break. Di questi casi ne possiamo avere infiniti, quindi quanti ne vogliamo, ma alla fine possiamo definire un caso di default, che appunto si chiama default, che a sua volta esegue un blocco di codice e ovviamente alla fine abbiamo il break. Ok, ma come funziona? Per prima cosa viene analizzata l'espressione, che nella maggior parte dei casi si tratta di una variabile e ogni valore presente nello switch, o meglio ogni caso dello switch statement, viene confrontato con l'espressione o con la variabile. Nel caso in cui venga trovato il match poi viene eseguito il blocco di codice corrispondente al case, quindi se con x troviamo un match con l'espressione viene eseguito il blocco di codice di x, se lo troviamo con y viene eseguito il blocco di codice di y, mentre in tutti i casi in cui non venga trovato un match, quindi immaginate di avere 100 case e nessuno di essi corrisponde all'espressione, in quel caso viene eseguito il blocco di codice default. Ma facciamo un esempio, quindi in alto chiediamo un numero da 1 a 7, poi dichiariamo una variabile int giorno che sarà uguale a ciò che inserisce l'utente, ovviamente convertito a int, e usiamo proprio la nostra variabile giorno, che poi corrisponde a ciò che inserisce l'utente, come espressione del nostro switch. Quindi switch e all'interno delle parentesi tonde inseriamo la variabile giorno. E adesso creiamo i vari casi da 1 a 7 che corrispondono poi ai giorni della settimana. Il primo caso è 1, quindi scriviamo case 1 e nel caso il numero inserito dall'utente sia 1, stamperemo su console lunedì. Poi andiamo a definire il case 2, quindi nel caso in cui l'utente inserisca come numero 2, cosa stamperemo? Beh, stampiamo martedì, punto e virgola. Poi creiamo il case 3 e ovviamente in questo caso stamperemo mercoledì e così via per tutti gli altri casi. Quindi io vado a copiare e vado a creare il case 4 in cui stampo giovedì, case 5 venerdì, poi case 6 sabato e infine case 7 domenica. E per adesso eliminiamo il blocco di codice default. Quindi nel nostro switch come espressione abbiamo giorno che viene confrontata con tutti questi casi. Quindi nel caso in cui giorno abbia come valore 1 viene eseguito questo blocco di codice, nel caso in cui abbia come valore 2 viene eseguito questo e così via fino a 7. Avviando il programma ci viene chiesto quindi di inserire un numero da 1 a 7, mettiamo ad esempio 3 e ci viene stampato un mercoledì. Riavviamo, inseriamo 6 e ci viene stampato sabato. Però se inseriamo ad esempio un numero fuori da questo range, quindi ad esempio 13, vedete che non succede nulla. Noi nel caso in cui venga inserito 13 vogliamo stampare l'utente che ha commesso qualche errore nell'input. In questo caso ci viene utile il default case, quindi default e stamperemo console.writeline errore nell'inserimento. Ovviamente alla fine mettiamo break. Quindi questa volta quando riavviamo il programma e inseriamo un numero escluso da questo range, 33, ci viene stampato errore nell'inserimento. Bene per questo episodio è tutto, per qualsiasi dubbi o domanda lasciate un commento e ci vediamo nel prossimo video.